Sono un metodo rivoluzionario dal punto di vista scientifico e chi sa raccoglierli e maneggiarli ha un futuro assicurato lavorativamente parlando. I big data sono un volume di dati talmente ampio che servono tecnologie e metodi specifici per estrarne il valore. A Genova l'università sta investendo su questo tipo di formazione e Davide Anguita è un professore che insegna data analysis. I big data sono in effetti un nuovo approccio per capire i fenomeni e la realtà che ci circonda. Il classico approccio scientifico prevede che un esperto faccia delle ipotesi e poi le vada a verificare sul campo analizzando i dati. Per chi si occupa di big data l'approccio è completamente diverso. È un approccio che parte dai dati e cerca di spiegare la realtà proprio trovando delle correlazioni nei dati che sono nuove e a cui nessuno avrebbe mai pensato in effetti. Trovare delle correlazioni poi fa capire meglio la realtà. E questo ovviamente poi può essere d'aiuto alla scienza per trovare effettivamente dei nessi di causalità fra fenomeni nuovi. Ma dal nostro punto di vista, da chi analizza i dati, in effetti l'importante è trovare questi nuovi modi, nuove correlazioni fra dati per esempio fare delle previsioni oppure per fare della diagnostica, per fare comunque delle operazioni che altrimenti col metodo scientifico richiederebbero troppo tempo e troppa fatica. Facciamo un esempio concreto. L'esempio che faccio sempre ai miei studenti prendiamo due fenomeni assolutamente scorrelati almeno a prima vista. è per esempio il numero di persone che affogano in mare e il numero di gelati venduti. Sembrerebbero due cose che non hanno nessun nesso fra di loro. In effetti si scopre che c'è una fortissima correlazione fra questi due elementi. E si capisce semplicemente andando poi a pensare che questi due fenomeni avvengono nello stesso istante, ovvero d'estate, quando la gente si accalca nelle spiagge. Quindi al limite noi andando a verificare le vendite dei gelati potremmo salvare vita umana. Delle correlazioni assolutamente strane che noi siamo in grado di trovare e a cui magari non avremmo pensato mettendosi a tavolino con degli esperti per trovare queste correlazioni. C'è fame di esperti di big data. I suoi laureati trovano subito lavoro, anzi scappano all'estero spesso. Sì, in effetti sì all'estero e anche in Italia per fortuna qualcuno decide di rimanere perché è il lavoro adesso del futuro, perché le aziende stanno raccogliendo, molte aziende stanno raccogliendo adesso i dati e si stanno accorgendo che all'interno del loro computer c'è veramente un business e c'è sempre più richiesta di persone quindi che siano in grado di elaborare questi dati. I miei studenti adesso, tanto per fare un esempio, gli ultimi due sono già scappati all'estero, chi in Olanda, chi in Spagna e addirittura le aziende vengono a cercarle prima che si laureino. Quali sono appunto le competenze e ricchezze che studi bisogna fare? Beh, chiaramente tutto quello che riguarda il mondo informatico è alla base dell'analisi dati, il mondo informatico e quindi c'è chiaramente matematica, statistica, ma tutta la parte di gestione del dato, quindi l'ingegneria informatica, l'informatica pura e i corsi, diciamo, annessi a tutto questo mondo. Buongiorno Grazie a tutti.